Signore ricordate, veloci e aggressivi. Andiamo, andiamo! Un sottino a terra! Sordente lanciata! Devo ricaricare, attendere! Il nemico ha distrutto il vostro UAV. Un uccisione confermata! Avanti, muoviti! Manca pochissimo. Dateci dentro. Un cecchino! A terra! Vediamo! Il corpo fulminante al deato in alto. Un dinamico ha distrutto il spot. Un esplore un pezzo che vorrà confermare al deato in alto. Sim, la direttiva di missione è stata completata.